E' stato arrestato per tentata estorsione turbativa d'asta con l'aggravante delle modalità mafiose Nicola Foria, 57enne ritenuto reggente dell'omonimo clan di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli e delle aree limitrofe. L'uomo è stato arrestato insieme ad altre due persone, Giuseppe Falco e Tommaso Rega, dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e l'esecuzione di ordinanze dei custodi cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli che ha anche disposto il divieto temporaneo di esercitare totalmente per sei mesi l'attività professionale per un avvocato. Il 43enne Luigi Esposito è disposto il sequestro preventivo di beni riconducibili agli indagati per un valore di 5 milioni di euro. I quattro, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero cercato di entrare illegitamente in possesso di un immobile oggetto di un'asta pubblica dopo il fallimento della società proprietaria tentando in un primo momento di corrompere tramite l'intermediazione dell'avvocato un imprenditore intenzionato a partecipare alla gara per poi minacciarlo con metodi mafiosi. L'indagine, partita a giugno scorso, ha consentito di individuare gli autori dei reati e di porre a sequestro tre società operanti nel settore delle edilizie e dei trasporti commerciali ma anche 12 fabbricati, 4 terreni e 10 rapporti bancari riconducibili agli indagati per un valore complessivo di 5 milioni di euro.